Un saluto a tutti da Andrea Cobelli di Vivere Informati. Vivere Informati nasce tra il 2017 e il 2018 dall'idea e dall'impegno quotidiano di due studenti universitari che siamo appunto io, Andrea Cobelli e Francesco Saris. L'iniziativa era nata per creare uno spazio di analisi e confronto sulle tematiche principali riguardanti tutti gli aspetti della società. Tale attività prosegue tuttora e ci permette, almeno secondo noi, di dare il nostro piccolo e umile contributo quotidiano al miglioramento della società e del mondo in cui viviamo. L'informazione, a nostro modesto parere, si lega in maniera viscerale anche all'innovazione e al progresso in generale, in qualunque ambito della società. Questo ce lo insegna anche la storia. Se noi pensiamo le più grandi innovazioni, i più grandi progressi, in qualunque ambito, da quelli più scientifici a quelli più umanistici, questi grandi cambiamenti nascono da nuove idee, nuove conoscenze, quindi sostanzialmente nuove informazioni che qualcuno applica nel settore nel quale innova. Quindi l'informazione, avere l'informazione giusta e saperla interpretare nella maniera corretta è assolutamente fondamentale. Questo rapporto tra informazione e innovazione lo approfondiremo nei prossimi appuntamenti e perché no ci aggiungeremo anche magari qualche cenno di volta in volta della più stretta attualità in modo da cercare di comprendere nella maniera migliore possibile anche tutti i fenomeni e i cambiamenti che sono in corso nella nostra società, nel mondo in cui viviamo. Per adesso vi ringrazio per l'ascolto e alla prossima. Un saluto da Andrea di Vivere Informati.